Consigliere, tiene banco soprattutto in questa provincia il tema del riordino della rete ospedaliera? Il centro-sinistra lancia l'allarme dicendo che puntualmente questa provincia di Teramo, l'Azio, viene penalizzata. Non si è imparato nulla negli anni scorsi o c'è qualcos'altro? Certamente loro sanno bene il centro-sinistra come stanno le cose perché negli anni scorsi hanno fatto proprio un disastro. Oggi abbiamo messo mano alla nuova rete ospedaliera, domani abbiamo una nuova riunione noi consiglieri di maggioranza per finire e aggiustare un attimino la rete ospedaliera nel miglior modo possibile. Teramo come se ne immagina consigliere? Perché poi il grande tema è il Mazzini anche legato alla delocalizzazione dell'ospedale. Sì, la delocalizzazione per il nuovo ospedale di Teramo ma ci saranno novità sul Mazzini come un centro innovativo di riabilitazione unico in provincia di Teramo. Quindi ufficiale che si sposterà il Mazzini? Non è ufficiale ma ci stiamo lavorando e faremo del nostro meglio e sarà una soluzione molto efficiente per l'intera comunità teramana. Quindi l'ospedale Mazzini di Teramo dove oggi è allocato non verrà né abbattuto né chiuso ma riconvertito in cosa? Assolutamente sì, sarà riconvertito in un grande centro riabilitativo unico in provincia di Teramo perché come ben sappiamo in provincia di Teramo non abbiamo un centro riabilitativo all'altezza e degno di una provincia come la nostra provincia di Teramo.